Bentornati con le previsioni a cura di MeteoOne. Situazione meteo stabile sul sud Italia ma con infiltrazioni fredde orientali. Infatti nei prossimi giorni avvertiremo un calo termico diffuso col ritorno delle correnti settentrionali. Ma vediamo nel dettaglio il tempo su Puglia e Basilicata per mercoledì 14 novembre. Al primo mattino non si escludono banchi di nebbia sulle coste, primo entroterra adriatico. Nel corso della mattinata nuvolamenti sulla Puglia costiera e Gargano, più sereno sui rimanenti settori. Nel pomeriggio maggiore nuvolosità sul centro nord Puglia e Melfese, con locali deboli più vaschi possibili sul Gargano. Un serata stabile con cieli localmente nuvolosi su Puglia centro settentrionale e Lucania. Per quanto riguarda le temperature, in lieve calo le massime su coste adriatiche e tavoliere, altrove stazionarie, punte di 20-21 gradi solo su arco ionico. Venti settentrionali con maestrale e rinforzo sulla Puglia, raffiche fino a 40-50 km orari su coste adriatiche e salento e per quanto riguarda i mari poco mossi il terreno, localmente molto mossi i rimanenti mari. Per la foto del giorno oggi ringraziamo Domenico Civitano per questo suggestivo mare di nebbia che qualche mattino fa avvolgeva la valle del Bradano. Inviate la vostra foto del giorno alle nostre pagine facebook e al numero whatsapp. La foto migliore verrà mandata in onda nella prossima puntata. Grazie per l'attenzione e arrivederci al prossimo appuntamento. Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!